bene amici iniziamo questo video con le bandiere di samsung è un immenso cartellone di dietro questo per farvi capire e per cercare a meglio di farvi capire dove sono quel cartello la rosso in fondo può farvi intendere dove mi trovo andiamo un attimo a spostarci in un'altra posizione ragazzi prima un attimo di suspense con il posteggio il posteggio di cosa dell'ifa di berlino quest'anno sono voluto tornare sono qua da un giorno ieri sono arrivato un po' tardi quindi non ho fatto in tempo a fare nessun video ho fatto una sorta di gita per capire un attimino quali potrebbero essere i video che caricherò sul canale ho visto che c'è avm tp link ci sono poi big brand come samsung che potete vedere tra l'altro qua che ha preso praticamente tutta la facciata dell'ifa completamente ma poi abbiamo anche brand emergenti cinesi abbiamo poi netatmo con le sue ip camera abbiamo poi le ip camera anche sd tp link insomma tantissimi prodotti adesso non ricordo più perché veramente ce ne sono tantissimi praticamente tutti i brand sono qui andiamo dentro facciamo il check in vi faccio vedere un po all'interno cosa vi aspetta se avete la fortuna anche voi di venire qui all'ifa di berlino vado a registrarmi eccoci qua dobbiamo andarci a registrare siamo qui all'ifa di berlino vediamo un attimino